Ragazzotti ho una piccola comunicazione o richiesta da farvi, non so ancora bene come chiamarla Sto cercando un programmatore o un qualsiasi tipo di persona che si intenda di programmazione in C Sharp Se siete interessati o semplicemente se vi intendete di quel tipo di linguaggio Per favore fatemelo sapere o qua sotto nei commenti oppure contattatemi direttamente la mia mail Che trovate sempre nella descrizione dei video che ne parliamo perché c'è un progetto amatoriale italiano che sta andando avanti per Space Engineer E serve proprio un programmatore che sappia quel linguaggio di programmazione Quindi il messaggio ve l'ho dato, fatemelo sapere, bye bye